All'angolo le campionesse ovvero Renault, Captur e Peugeot 2008, all'altro angolo la sfidante ovvero la Citroen C Aircross, il SUV compatto di Citroen che per ora è soltanto una concept ma arriverà presto circa il 2018. È una vettura che comunque vuole inserirsi di forza nel proprio segmento e per mostrarvela un po' più nel dettaglio mi sono fatto aiutare ovviamente con dei bozzetti 3D trattandosi di un concept. Andiamo a vederla nel dettaglio. Allora intanto partiamo dal muso della vettura, potremmo dire che questa C Aircross è un po' Giannobifronte perché abbiamo il muso che ricorda un po' la C4 Cactus mentre la parte posteriore che ricorda un po' la nuova C3. Ma andiamo a vederla. Allora intanto abbiamo il muso che è caratterizzato dai fari diurni a LED che poi si allungano con questi due profili in alluminio che convergono al centro e dando vita al double chevron. Poi abbiamo nella parte più bassa i fari invece di profondità belli voluminosi, belli grossi e poi sicuramente una connotazione off-road data dalla slitta anteriore e poi dalla parte più bassa delle fiancate che come potete vedere erano queste grosse parti in plastica. Passando alla visione posteriore cosa notiamo? Notiamo i fari che probabilmente non saranno però 3D nella versione definitiva e poi il montante posteriore che è stato furbescamente utilizzato per dare anche una linea più estetica e più accattivante alla vettura. Cosa non vedremo invece sulla vettura di serie rispetto a questa concept? Sicuramente le telecamere posteriori perché avremo degli specchietti, le maniglie che avremo sicuramente delle maniglie tradizionali e probabilmente cambierà anche un po' la parte più bassa della vettura. A proposito di maniglie, le porte si aprono in due modi. Abbiamo la porta anteriore che si aprono in maniera tradizionale mentre le porte posteriori che si aprono controvento. E a proposito di lato vettura e in questo ci aiuta la visione laterale possiamo vedere sicuramente una grande potenza, una grande dominanza della parte più bassa della vettura con una linea di cintura molto alta, una parte vetrata invece piuttosto bassa e il tetto bianco, quindi bicolor, che quindi dà una bella dinamicità alla vettura. Per quanto riguarda le dimensioni, eccole qua. Abbiamo 1,63 di altezza, 4,15 metri di lunghezza totale e 1,74 di larghezza. Per finire, abitacolo. Cosa ci dice l'abitacolo? Sicuramente che è stato studiato abbinando due colori, quindi anche questo bicolor e poi sfruttando lo sviluppo delle linee orizzontali. Questo perché? Perché Citroen voleva dare un grande concetto di fluidità, di modernità e di spazio. C'è un'altra cosa molto importante che si può notare da questa vista è che è tutto simmetrico, tranne una cosa, il cruscotto centrale per chi guida perché tutto il resto, come potete vedere, ho disegnato questa linea, è tutto perfettamente simmetrico ovviamente a parte anche il volante. Volante che è minimalista, ma garantiscono che è completo di tutte le informazioni e poi al centro anche il display da 12 pollici, molto grande, che sarà probabilmente comandabile vocalmente anche da chi è seduto sui posti posteriori. C'è un'altra cosa, e l'ho disegnata con la lampadina per dare l'idea della genialità, abbiamo anche la piastra di ricarica induzione per i telefonini posizionate sul tunnel centrale. Tunnel centrale che è anche caratterizzato da questo vano molto grande. A quanto dicono in Citroen, tutta la vettura sarà ricca di tanti piccoli vani per posizionare gli oggetti indispensabili durante un viaggio. A noi non ci rimane che salutarvi, questa era la Citroen C Aircross Concept, arriverà nel 2018, speriamo che nel frattempo non perda le sue caratteristiche perché ci piace e ha un bel design. Noi vi rimandiamo alla prossima vettura. Ciao da Maurizio!